Gigi Datome, come sono questi primi giorni lontano da quel campo a cui hai dedicato tutta la tua vita? Non troppo lontano perché sono sempre dietro a aiutare con l'Olimpia a Milano. Sto bene, è passato poco tempo per tirare le somme, però mi sento molto bene, soprattutto sto bene con me stesso che è una cosa non banale. A molti campioni gli viene chiesto se decidono quando smettere. Tu quando hai maturato questa decisione di dire addio al basket? Un po' durante la scorsa stagione, per una serie di motivi mi hanno fatto capire che poteva essere l'ultima stagione, però ho aspettato la fine per prendere la decisione finale, ero convinto della scelta, quindi così è maturato. Una carriera straordinaria che ti ha portato anche in America e che si è conclusa con un mondiale giocato alla grande dagli azzurri. Se dovessi scegliere tre frame della tua carriera, quali ti porti nel cuore maggiormente? Ho avuto la fortuna di averne tanti di frame belli, sicuramente la vittoria dell'Eurolega, lo scudetto anche con Milano, gli ultimi due sono stati molto belli. Il mio ultimo anno a Roma è stato molto bello e anche la fotografia finale del mio ritiro di fatto con la nazionale, anche che c'è sempre stata, insomma scegliete una di queste senza dimenticare l'NBA, in cui è stato molto bello esserci. Arrivasse una chiamata dalla nazionale, ti piacerebbe magari accompagnare i ragazzi verso il sogno olimpico perché non sarà facile arrivare a Parigi? No, adesso penso a fare quello che sto facendo e ogni cosa ha il suo tempo, adesso sono molto concentrato a capire come aiutare l'Olimpia e imparare il più possibile che è la cosa più importante adesso. Grazie.